Belpietro, tu ti preoccupa di più Draghi o i piccoli Mussolini che crescono in giro per l'Europa? Penso che forse Draghi dovrebbe preoccuparsi anche di bacchettare un commissario europeo che parla di Mussolini, sì, perché io francamente di Mussolini in circolazione non ne vedo, piccoli Mussolini. Vedo un'Europa incapace di affrontare delle situazioni politiche ed economiche, un'Europa divisa dove ci sono degli interessi economici molto forti di alcuni paesi che vogliono prevalere su altri paesi. Non era certo un'Europa unita che ci si immaginava, ho la sensazione che si sia perso un po' di vista tutto quello che era il disegno della costruzione di un progetto europeo. Oggi siamo più divisi di prima, ma questo non è addebitabile soltanto a qualche forza politica, forse è addebitabile proprio alle politiche della UE, quindi anch'io sono a favore dei progressismo, chiamandolo così, non progressisti perché i progressisti sono stati usati come un'etichetta politica, ma bisogna stabilire, certo bisogna andare avanti, ma stabilire in quale direzione. A me sembra che in questa direzione si vada solo a sbattere.